Dopo gli zero contagi di ieri oggi si registrano tre nuovi casi di coronavirus in regione ma i malati totali sono 18 in meno grazie alla generosità dei friulani nuove apparecchiature negli ospedali di Monfalcone e San Daniele. Confindustria Udine rileva un calo della produzione del 6,2 per cento nel primo trimestre a fine anno la flessione del pil potrebbe toccare i nove punti nel legno arredo l'ottanta per cento di chi ha perso ordini durante il lockdown non li ha recuperati. Udinese tv rafforza l'informazione anche sul Veneto per la cronaca oggi in primo piano un'operazione contro l'Andrangheta a Verona indagato per concorso impeculato anche l'ex sindaco Tosi. Per più di sei anni ha sperato che il figlio cambiasse ma dopo l'ultima aggressione lo ha denunciato un 84enne di Pordenone ha cercato così di porre fine alle violenze. A Udine sei denunce per una rissa scatenata da una frase antisemita. Udinese per Strughe rinfrazione al polso il danese ha subito una pallonata in allenamento nulla di grave il giocatore si allena regolarmente con un tutore a protezione di avambraccio e mano destri domani i bianconeri riposano sabato doppia seduta. Un saluto a tutti i telespettatori di Udinese tv e bentrovati a questa edizione della sera del nostro notiziario. In primo piano il consueto bollettino sulla diffusione dell'epidemia di coronavirus. Purtroppo dopo i zero casi positivi nuovi e i zero decessi di ieri oggi si registra un nuovo aumento dei contagi. Fortunatamente è leggero tre nuovi positivi oggi in Friuli Venezia Giulia, uno in provincia di Udino, uno in provincia di Trieste, uno in provincia di Pordenone. Non ci sono vittime. Intanto continuano a vedersi i risultati, gli effetti della generosità dei friulani che nelle settimane passate durante il lockdown hanno avviato tante raccolte fondi per acquistare apparecchiature da donare agli ospedali del nostro Friuli. E oggi sono state donate nuove attrezzature all'ospedale di San Daniele e anche a quello di Monfalcone. Allora sentiamo il primo servizio di Luciana Idelfonso. Tre contagi nelle ultime 24 ore, nessun nuovo decesso? L'andamento della curva dei positivi cresce sensibilmente in Friuli Venezia Giulia. Dopo la giornata di ieri, in cui non si erano registrati nuovi casi, dall'inizio dell'epidemia i cittadini risultati infetti. Restano quindi 3.279, 1.389 a Trieste, 987 a Udine, 689 a Pordenone e 214 a Gorizia. Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 283, 18 in meno rispetto alla giornata di ieri. In terapia intensiva sono ricoverati due pazienti, mentre quelli presenti in altri reparti scendono a 34. Non si registrano fortunatamente ulteriori decessi che si fermano a quota 336. I totalmente guariti invece ammontano 2.660, 21 in più rispetto a ieri. I clinicamente guariti a 70 e le persone in isolamento domiciliare sono solo 177. Nonostante i numeri restino ottimali sulla gestione dell'emergenza Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, c'è chi ha qualcosa da ridire nei confronti della Giunta regionale. A lanciare un ultimatum sono i rappresentanti dei sindacati pensionati di CGL, CISL e UIL che sollecitano Riccardi sull'invio dei dati sull'andamento dei contagi nelle strutture, soprattutto per anziani e della zona triestina, e sulla situazione degli organici fermi ormai al 12 maggio, oltre che a un bilancio sugli interventi effettuati e a un cronoprogramma di quelli futuri. Non solo polemiche, ci sono realtà che hanno pensato di far sentire la propria vicinanza regalando macchinari a supporto della diagnostica preliminare. È l'esempio dato dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele, che ha donato al locale Nosocomio un ecografo che sarà utilizzato nel reparto di pronto soccorso e due speciali dispositivi in supporto all'attività del medico personale destinati all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Per facilitare la didattica a distanza, infine, su richiesta del comparto scolastico di San Daniele, il Consorzio ha anche compartecipato all'acquisto di 20 tablet da fornire incomodato agli studenti dell'Istituto Comprensivo della Cittadina Collinare. E a proposito di ospedali, l'assessore regionale alla salute Riccardi ha incontrato oggi i vertici dell'amministrazione comunale di Palmanova, il sindaco Francesco Martinez, parte della Giunta e alcuni consiglieri comunali per fare il punto sul futuro dell'ospedale cittadino. Non ci sarà alcuna chiusura, ha detto Riccardi, ma un vero potenziamento coerentemente a quanto votato dal Consiglio regionale. L'ospedale di Palmanova diventerà un punto di riferimento per quanto riguarda l'ortopedia, in particolare sul fronte della protesica, l'oculistica, l'anestesia e anche il day surgery. Entro giugno sarà bandito il concorso per l'assunzione del primario della struttura operativa complessa di anestesia, al quale seguiranno quelli di nefrologia, rianimazione e oculistica. L'obiettivo è eseguire il primo intervento di questo nuovo corso nel nosocomio palmarino entro l'estate. Potenziare l'anestesia e portare da Udine a Palmanova parte dell'attività chirurgica ortopedica, soprattutto la protesica, sotto legida del professor Araldo Causero, direttore della clinica ortopedica, in particolare per anca e ginocchio, permette, ha detto Riccardi, di assicurare numeri e qualità alla struttura palmarina, riducendo allo stesso tempo la cosiddetta fuga ortopedica verso il Veneto e decongestionando le liste d'attesa dell'ospedale AB di Udine. E torniamo adesso ai numeri dei contagi per un'occhiata veloce anche ai numeri nazionali, con 88 vittime nelle ultime 24 ore per un totale di 33.689. I nuovi contagi in tutta Italia sono stati 177, numero che conferma il calo dei contagi, quindi un trend in diminuzione. I guariti sono 161.895, 957 in più. E veniamo adesso alle conseguenze economiche di questa crisi sanitaria con una produzione industriale diminuita sensibilmente nel primo trimestre in Friuli, meno 6,2% secondo gli ultimi dati forniti da Confindustria Udine che stima un crollo del PIL alla fine del 2020 di oltre 9 punti percentuali. Andiamo a sentire il servizio di David Zanirato. L'impatto improvviso a marzo del Covid-19 sull'industria della provincia di Udine è stato pesantissimo. Si stima un crollo del PIL nel solo 2020 pari a oltre 9 punti percentuali. Nel primo trimestre dell'anno l'indicatore della produzione industriale rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, già in calo nei trimestri precedenti, è sceso del meno 6,2%. A renderlo noto la Presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Daniele, illustrando l'indagine trimestrale sul comparto manifatturiero. Le misure di contenimento e di contrasto per limitare la diffusione della pandemia, detto la Presidente, hanno determinato un doppio shock negativo. Da un lato la domanda con il rinvio delle decisioni di investimento da parte delle aziende e di spesa da parte dei consumatori. Dall'altro l'offerta con il blocco di numerose attività produttive. E anche nel secondo trimestre, in conseguenza della chiusura di circa il 60% delle imprese della provincia, la caduta dell'attività sarà sicuramente maggiore. La fine del lockdown non sta generando un immediato rimbalzo perché le imprese devono smaltire le scorte accumulate. La domanda interna non dà segni di ripartenza e quella estera risente della contrazione del commercio mondiale. Anche il fatturato ha segnato nei primi tre mesi di quest'anno un crollo con una variazione negativa del meno 6,8% rispetto allo scorso anno. In conseguenza della pesante diminuzione degli ordini, per il 73% delle aziende nel secondo trimestre si registrerà un'ulteriore pesante diminuzione delle vendite. Nel dettaglio l'industria meccanica provinciale ha perso almeno 4,8%, quella siderurgica almeno 7,4%, il legno arredo il meno 11,9%. Il materiale da costruzione è almeno 13,9%. Con riferimento invece all'occupazione in provincia nel periodo gennaio-marzo 2020 le assunzioni hanno riguardato 19.045 rapporti di lavoro, meno 14,2% rispetto all'anno precedente. Le cessazioni sono state 17.306 con un saldo positivo di 1.739, notevolmente inferiore a quello registrato nei primi tre mesi del 2019. Si è osservata infine un'esplosione dell'utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni, le cui ora autorizzate in provincia di Udine sono passate da 238.000 a 9.690.000. Secondo un'indagine realizzata dal cluster Legno Arredo del Friuli Venezia Giulia, l'83% di chi ha perso ordini a marzo e aprile non è riuscito a recuperarli. L'81% delle imprese lavorano con una operatività ridotta, il 99% ha utilizzato la Cassa Integrazione e si prevede a fine anno oltre un terzo di fatturato in meno, anche se il 94% delle aziende non prende in considerazione l'ipotesi chiusura. Rispetto a marzo e aprile del 2019, l'87% degli intervistati ha dichiarato di aver perso almeno il 25% del fatturato, un 18% dice di aver perso il 75% del proprio fatturato. A fronte di questo quadro il presidente del cluster, Franco Di Fonso, e il direttore Carlo Piemonte hanno sottolineato che l'export deve essere sostenuto affinché possa riprendersi prima che nel comparto si inseriscano concorrenti stranieri, mentre a livello nazionale urge snellire e sburocratizzare. E a San Daniele il 25% delle aziende rischia la chiusura dopo il lockdown, lo ha messo in luce Confesercenti con un'indagine tra le piccole e medie imprese del commercio e del turismo. Ne abbiamo parlato con il presidente provinciale del Sodalizio, Zoranti, e con il sindaco, Valent. Sentiamo. Abbiamo calcolato per San Daniele che ha 144 attività commerciali che il 20-25% avevamo immaginato che non avrebbe riaperto. Purtroppo abbiamo indovinato, nel senso che c'è una defezione piuttosto importante. Certo è che nel medio termine potrebbe accadere che le stesse aziende che sono riuscite e che hanno pensato di, hanno voluto riaprire in questa fase, potrebbero trovarsi in difficoltà. Se non ci sono degli, non ci saranno degli interventi importanti da parte dello Stato, la percentuale delle aziende che potrebbero chiudere potrebbe raggiungere anche il 40%. Questo cosa significa? Significa che dietro ogni azienda che chiude c'è una famiglia, ci sono i dipendenti e quindi il problema, il danno sociale può essere molto rilevante. Dalle indagini analoghe che avete effettuato negli altri comuni della regione è emerso un quadro simile, in linea? Decisamente sì. Sia le zone balneari che le zone del collinare che anche della pianura, le città più o meno grandi e anche i comuni più piccoli, la percentuale delle non riaperture è simile, dal 20 al 25%. San Daniele è importante dal punto di vista dei flussi turistici e quindi fin tanto che non si riaprono a pieno le frontiere e gli spostamenti interregionali diventa un po' complesso per le nostre attività produttive programmarsi. Però posso dire che da parte dell'amministrazione c'è una grande sensibilità nei confronti di queste aziende, tant'è che stiamo predisponendo dei pacchetti di intervento proprio sul lato della tassazione e mi riferisco in particolare la tassa sui rifiuti e la tassa occupazione sullo pubblico, dove vicino ad un intervento regionale di circa 70 mila euro per le aziende del San Danielese, il Comune mette vicino altri 200 e passa mila euro, più significative per quanto riguarda la rinascita post-Covid-19. Passiamo adesso alla cronaca. Da diverse settimane Udinese TV ha deciso di rafforzare la propria capillarità informativa all'intero nord-est e per questo negli spazi quotidiani della nostra emittente, accanto al costante racconto dei fatti che avvengono in Friuli Venezia Giulia, ci sarà anche un'attenzione a tutto ciò che accade in Veneto. Dall'attualità alla cronaca, dal costume alla cultura, in primo piano oggi spicca l'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia che ha disarticolato un'associazione criminale legata all'Andrangheta con base a Verona. Tra gli indagati anche l'ex sindaco scaligero Flavio Tosi. Sentiamo Davide Zanirato. C'è anche l'ex sindaco di Verona Flavio Tosi tra gli indagati nell'inchiesta della DDA di Venezia che ha portato oggi a 26 misure cautelari tra le quali 23 arresti a carico di un'associazione criminale che agiva nel capoluogo scaligero riconducibile alla cosca dell'Andrangheta degli Arena Nicosia. Nei confronti dell'ex primo cittadino l'accusa è concorso impeculato. Nell'inchiesta i reati ipotizzati a vario titolo sono quelli di associazione mafiosa, truffa, riciclaggio e distorsione. Tosi, si è preso dalle carte dell'indagine, è invece accusato in concorso impeculato in relazione alla distrazione da parte dell'ex presidente della municipalizzata veronese AMIA, Andrea Miglioranzi, attualmente ai domiciliari, di una somma non inferiore a 5.000 euro per pagare la fattura di un'agenzia di investigazioni privata su prestazioni in realtà mai eseguite in favore di AMIA ma nell'interesse di Tosi. 17 complessivamente le persone finite in carcere, 3 ai domiciliari, 3 gli obblighi di firma, 200 i poliziotti impegnati durante il blitz notturno, un'operazione che dimostra ancora una volta come l'infiltrazione della malavita calabrese si è ormai strutturata in Veneto e in particolare un'articolazione scaligera facente capo alla famiglia Giardino che ha radicato in modo autonomo le proprie attività illecite nella provincia Veneta mantenendo stabili rapporti affaristici con le analoghe strutture mafiose operanti in Emilia Romagna e Lombardia. Nel medesimo contesto è stato disposto il sequestro preventivo di un ingente patrimonio immobiliare, aziendale e finanziario per un valore complessivo di circa 15 milioni di euro, ritenuto provento dell'attività illecita del sodalizio mafioso, frutto degli approfondimenti investigativi e patrimoniali svolti dalla sezione specializzata del servizio centrale operativo. Grave in accidente stradale nella tarda mattinata di oggi a San Giorgio della Rikhinvelda, un furgone che trasportava otto persone, giovani pakistani, avventizi, agricoli nell'azienda della zona, è uscito di strada nell'affrontare una curva finendo contro un platano. Quattro persone sono rimaste ferite in maniera seria, altre quattro hanno riportato soltanto contusioni. A Udine una denuncia e anche un daspo per i prossimi sei anni nei confronti di un uomo che è accusato di aver causato lo scorso novembre una violenta rissa in un bar dei Rizzi, dopo aver pronunciato frasi antisemite inneggianti ad Auschwitz. Oltre a lui altre cinque persone sono state denunciate dalla questura di Udine. Sentiamo Luciano Idelfonso. Urla contro uno dei clienti di un bar udinese una frase antisemita inneggiante ad Auschwitz ed innesca così una rissa con il coinvolgimento di altri avventori. Dopo un'indagine durata ben sette mesi, la Digos di Udine ha denunciato sei persone ritenute responsabili della cesalite avvenuta la sera del 10 novembre del 2019. La discussione scoppia all'interno del bar e poi prosegue nelle adiacenze esterne. Ad innescarla quella frase antisemita che aveva dato il via ad un acceso confronto verbale degenerato poco dopo alle vie di fatto, con reciproco scambio di calci e pugni. Il titolare dell'esercizio, dopo aver cacciato fuori i rissosi avventori, era stato costretto a barricarsi all'interno e a richiedere un intervento urgente delle forze dell'ordine. Grazie all'analisi dei sistemi di videosorveglianza, gli agenti della Digos sono risaliti ai responsabili sei cittadini italiani di età compresa tra i 29 e i 36 anni, alcuni dei quali già conosciuti dalle forze dell'ordine. Al termine dell'attività, tutti i partecipanti alla rissa sono stati deferiti all'autorità giudiziaria. Nei loro confronti, la divisione anticrimine della questura ha fatto scattare anche i DASPO, con conseguente divieto di accedere agli impianti sportivi con una durata variabile dai 2 ai 6 anni. Nei confronti dell'istigatore della rissa, sospettato di appartenere a movimenti dell'estrema destra, sono scattati ulteriori approfondimenti investigativi. A seguito di perquisizione è stato possibile il sequestro di due bandane naziste, una sciarpa della Decima Mass e un Passamontagna Nero. Nell'abitazione sono stati inoltre rinvenuti diversi libri riconducibili a fascismo e nazismo. L'estremista, nato a Udine ma residente nel Cividalese, già conosciuto alle forze dell'ordine e oltre a essere stato denunciato è stato sottoposto dal questore di Udine ad ASPO della durata di 6 anni con obbligo di firma negli uffici di pubblica sicurezza per i prossimi 5. E' un uomo di 61 anni è caduto da un'altezza di circa 4 metri mentre stava facendo dei lavori di manutenzione in una falegnameria di Sedegliano. Stava controllando la copertura di un cappannone quando ha ceduto il controsoffitto facendolo precipitare al suolo. Subito soccorso dai colleghi sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco di Codroipo e di Udine e l'elicottero sanitario. L'uomo è stato stabilizzato sul posto e sempre cosciente è stato trasferito all'ospedale di Udine in prognosi riservata per il grave trauma cranico riportato nell'impatto. Gli altri fatti di cronaca della giornata di oggi adesso nelle nostre flash news in primo piano c'è la denuncia per maltrattamenti fatta da un uomo o un anziano di 84 anni nei confronti del proprio figlio. Sentiamo. Nella serata di ieri gli agenti della squadra volante della questura di Pordenone hanno arrestato Giorgio Cozzarini 52enne pordenonese con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali pluriaggravate mosse nei confronti dell'anziano padre. L'allarme è scattato lunedì 25 maggio quando in questura è arrivata una richiesta di aiuto di un signore 84enne aggredito e colpito dal figlio convivente con un bastone. L'uomo ha raccontato uno spaccato di maltrattamenti e violenze che si protraeva da più di sei anni. Oltre a schiaffi, pugni e colpi di bastone c'erano anche le violenze psicologiche che avevano costretto più volte l'anziano a ricorrere alle cure mediche. Una ragazzina di 13 anni di Fontana Fredda è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dopo essere stata investita nel tardo pomeriggio di ieri da un'auto condotta da un uomo di 72 anni del posto. La bimba, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale stazione, si trovava in Viale dello Sport camminando sul ciglio della strada insieme al padre di 60 anni. La giovane è stata trasportata all'ospedale di Pordenone e quindi trasferita a Udine dove è ricoverata in prognosi riservata. La vettura, una Nissan, è stata posta sotto sequestro. Si sono concluse sabato sera con l'arresto di un 56enne residente ad Artaterme con la denuncia del figlio di 17enne le indagini condotte dai militari dell'arma di Paluzza attivate dopo la segnalazione di un imprenditore locale titolare di una ditta di movimento terra che aveva riferito della sottrazione di circa 300 litri di gasolio da una cisterna adibita all'approvvigionamento dei mezzi di una cava della zona. I colpi si erano verificati tutti in fascia serale specialmente nei fine settimana. I militari si sono così appostati nel cantiere poco dopo l'imbrunire hanno colto sul fatto padre e figlio mentre rubavano tre taniche di gasolio per un totale di 90 litri caricate poi nell'auto. L'uomo è stato posto su disposizione della procura della Repubblica di Udine agli arresti domiciliari mentre il giovane riaccompagnato a casa è stato segnalato al tribunale per i minorenni di Trieste. La refurtiva è stata restituita. La stazione dei carabinieri di La Tisana ha arrestato per evasione una donna di origine siciliana di 52 anni residente a La Tisana. Sottoposta ai domiciliari nella sua abitazione dove sta scontando una condanna per furti commessi in provincia di Palermo è stata sorpresa a Palozzolo dello Stella senza alcuna autorizzazione. L'arresto è stato convalidato e la donna è stata risottoposta alla misura alternativa alla detenzione. In asse di Udine nel corso di alcuni controlli negli esercizi commerciali del capoluogo friulano hanno scoperto in un market etnico 50 chili di alimenti non tracciati. Sulle confezioni dei cibi, dalla carne alle spezie alle leguminose, non erano state riportate le indicazioni in lingua italiana ma solo nelle lingue straniere di provenienza. Multa di 1000 euro per il titolare del punto vendita, tutti gli alimenti sono stati posti sotto sequestro. Oltre al controllo nell'attività commerciale in queste ore in asse stanno proseguendo anche le verifiche nelle case di riposo della provincia in ordine all'osservanza dei protocolli relativi alla prevenzione del Covid-19. Il futuro di Piazza San Giacomo ma più in generale delle attività commerciali del centro di Udine è stato oggetto oggi di un incontro tra Comune e Camera di Commercio, tra l'assessore alle attività produttive, al turismo e al commercio Maurizio Franz e il presidente dell'ente camerale Giovanni D'Apozzo. Un incontro proficuo ha commentato Franz con la Camera di Commercio che ha dato la disponibilità a mettere a disposizione mezzi e risorse. Per quanto riguarda Piazza San Giacomo, ha detto Franz, la parola passa ora gli esercenti della zona che dopo aver optato per il noleggio di sedie e tavolini anziché per l'acquisto delle strutture da posizionare sulla piazza devono ora affidarsi a un tecnico per individuare il modo migliore per coprire le pietre del plateatico per evitare di danneggiarle. Una copertura che deve rispettare le regole imposte dalla soprintendenza. Camera di Commercio disponibile dunque a supportare il progetto. Ma, ha aggiunto Franz, abbiamo gettato le basi per un regolamento più ampio sulla valorizzazione delle centro città e sul supporto alle attività economiche che qui sono insediate anche per quanto riguarda Via Mercato Vecchio, il cui futuro appunto è tutto da definire e da organizzare. I lavori della Giunta Comunale di Udine tra le principali delibere licenziate oggi dall'esecutivo Fontanini. C'è una variante per i lavori al cinema visionario e poi ancora la riapertura della piscina delle Palamostre e le attività negli orti urbani. Sentiamo. Nuova tranche di lavori e visionario di Udine. A fronte di un quadro complessivo di 3 milioni e mezzo di interventi, la Giunta Comunale ha dato il via libera a una variante per migliorare ulteriormente le dotazioni tecnologiche del cinema. L'obiettivo è di terminare i lavori entro agosto. I lavori sono iniziati da tempo, si stanno completando, il termine ultimo il 30 agosto però sono stati sospesi durante il periodo del coronavirus, adesso sono già ripresi. Con questa variante di 457 mila euro praticamente andiamo a completare tutta l'impiantistica delle due sale, sia Astra che Minerva, per fare in modo di rendere anche oggettivamente praticabili anche le soluzioni innovative, tecnologiche. È il Comune di Udine attraverso i finanziamenti della Regione che è proprietario dell'immobile e che sta corredando assieme al visionario stesso, quindi al centro attivisive, il completamento di questa opera. Dobbiamo tenere presente che il tutto va a richiamare quello che è il turismo, quello che è il cittadino udinese che usufruisce di queste sale che sono diciamo vicine proprio all'interno del centro della città. L'esecutivo ha approvato anche la delibera per la riapertura dal lunedì 15 della piscina del Palamostre con ingressi da prenotare il giorno prima. Una limitazione a 200 delle presenze, percorsi ben definiti di entrata e uscita. L'esecutivo Fontanini ha anche affrontato la questione delle iniziative per disabili programmate negli orti urbani, saltate nei mesi scorsi a causa dell'emergenza sanitaria. Purtroppo l'emergenza sanitaria ha interrotto un ciclo di incontri già programmato e pertanto oggi ho riportato in giunta appunto questa programmazione rivista, grazie sempre alla comunità Pier Giorgio Onlus, al Gervasutta, all'azienda sanitaria di Udine, per gli orti sperimentali a misura di disabile e in funzione anche riabilitativa. Quindi sarà un'occasione per scoprire quali sono le altre funzionalità che l'orto, oltre insomma alle già principali funzioni che abbiamo elencato, quali insomma l'avvicinamento all'ambiente, la sostenibilità ambientale, alla salute, alla vita sana, può essere anche un aiuto importante per le persone affette da disabilità. E siamo arrivati allo sport, lieve infrazione al polso destro per Struger Larsen, il danese è stato fortuitamente colpito da una pallonata ieri pomeriggio, ma per fortuna nulla di particolarmente grave e allora la preparazione del danese, grazie a un tutore, non si è fermata permettendogli già oggi di lavorare con i compagni, ad eccezione della partitina finale svoltasi alla Dacia Arena. Domani giorno di riposo, Bianconeri in campo sabato per una doppia seduta, mentre il presidente Gravina auspica a luglio una riapertura parziale degli stadi. Sentiamo Jacopo Romeo. Anche oggi una doppia seduta di lavoro per l'udinese, una giornata che si è aperta in casa bianconera con la notizia della lieve infrazione al polso destro riportata da Jens Struger Larsen, colpito nell'allenamento di ieri pomeriggio da una pallonata fortuita che sfortunatamente gli ha causato questo problema. Nulla però di irreparabile e di risolvibile, anzi è una lieve infrazione che non mette i bastoni tra le ruote all'esterno danese, che già quest'oggi ha lavorato regolarmente con i compagni in campo, venendo dispensato soltanto della partitella finale svoltasi alla Dacia Arena, tutta in famiglia ma ovviamente non un amichevole, bensì una sgambatina a tempi ridotti. Per quanto riguarda Struger, regolarmente da sabato, dopo il giorno di riposo che la squadra osserverà domani, sarà regolarmente in campo con i compagni e già questo pomeriggio ha potuto soffrire di un primo tutore per non interrompere l'attività. Detto questo, Gotti ha continuato ad innalzare il focus tecnico-tattico e la squadra continua a dimostrare di star bene anche dal punto di vista atletico e fisico. Ad eccezione di Sebastian Prodel, anche oggi l'udinese ha lavorato dunque a ranghi completi e compatti, concentrandosi al mattino sull'aspetto fisico ed atletico con un lavoro a gruppetti in palestra e poi nel pomeriggio scendendo in campo prima al Bruseschi e poi spostandosi alla Dacia Arena anche per fare l'abitudine al silenzio surreale delle porte chiuse, che salvo clamorose sorprese dovrebbe essere almeno nelle prime giornate di campionato lo scenario abituale, anche se il presidente FGC Gravino ha confermato che c'è l'auspicio e l'ambizione entro luglio di riaprire almeno una parte degli stadi, confidando sulla positività della curva dei contagi. Intanto l'ufficio di presidenza della FGC quest'oggi ha discusso non soltanto di questo ma anche di play-off e play-out e soprattutto del famigerato algoritmo che perprime praticamente tutte le società di Serie A e non solo nella speranza che tutti i verdetti riescono ad arrivare regolarmente dal campo. L'Udinese dal canto suo si continua a preparare e sarà nuovamente di scena con un doppio allenamento nella giornata di sabato. E noi ci fermiamo qui per questa edizione del notiziario, vi ricordo che l'informazione ritorna questa notte alle 22.30. Buona serata a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.